Ciao Alvi, incredibile ma vero, nostra maglia diversa in squadra Grazie a tutti Nando Ma quando stiamo? Sì Sta sempre nudo e ora si mette il coso Hai dimenticato i calzetti Ale, non è come un paio di calzetti in più Aspetta parla di chi è il nostro No, no, no No, no No, no No